Definito il programma della Pool Scudetto, Lupi in campo domenica in trasferta contro il Pianura in provincia di Siena in caso di successo. Domenica 19 sfida al Morinari contro il Carpi, altrimenti anche in caso di pareggio nella sfida in programma a Pian Castagnaio, la gara interna contro il Carpi appunto si giocherà mercoledì. La squadra ha ripreso ieri gli allenamenti e pressoché certa una buona turnazione degli uomini da parte di Mister Pergolizzi. Una manifestazione è quella della Pool che in buona sostanza interessa solo a fini statistici e null'altro. L'obiettivo è stato raggiunto, la Lega Pro è arrivata e nella prossima stagione i Lupi saranno nuovamente protagonisti nel calcio professionistico. Questo è un periodo utile per programmare la nuova stagione. I rappresentanti in capo al Campobasso hanno subito rilanciato le ambizioni anche per la Serie C. L'obiettivo è quello di allestire un organico di prima fascia per competere nei piani alti della classifica, periodo questo di maggio, teso anche ad irrobustire le basi. Per affrontare una categoria superiore serve anche un allargamento delle varie componenti in seno alla società, dai partner alle figure apicali, passando per il settore giovanile, che gioco forza dovrà essere diverso rispetto a quello della stagione che si sta concludendo. Insomma un percorso atto a far crescere ancora di più il club Campobasso per affrontare nel migliore dei modi la nuova avventura. La piazza Rosso-Blu sogna ad occhi aperti, l'entusiasmo alle stelle e l'argomento Campobasso si affronta in tutte le sedi, come ad esempio la possibilità di giocare nel girone C meridionale oppure nel B più centrale rispetto alla cartina geografica dell'Italia. A proposito di Serie C, sono iniziati i play-off per la promozione in Serie B. Giocati 32esimi di finale, si torna in campo sabato per le sei gare, valide per i sedicesimi. Ha chiuso la stagione nel migliore dei modi il Termoli. Giallorossi hanno guadagnato sul campo una salvezza assolutamente meritata. Il presidente Montaquila, spesso contestato, ha portato la nave in porto e ora programma la nuova stagione. Non si escludono forme di collaborazione per fortificare la permanenza del Termoli in quarta serie è altrettanto vero che la presenza di Montaquila è fondamentale per la prosecuzione del calcio termolese ad un certo livello. Nella prossima stagione sarà presente anche l'Isernia, un ritorno cercato più volte. Finalmente la Serie D è realtà grazie alla cavalcata della squadra guidata da mister Farrocco. Anche negli ambienti societari bianco-celesti si programma il torneo di quarta serie con l'impegno della proprietà di voler ben figurare nella nuova stimolante stagione. Grazie a tutti.